Bentornati sul mio canale MaybeCreart. Oggi un video molto veloce di un prodotto fantastico della Resin Pro iGumma, una gomma siliconica con cui potrete ottenere molto rapidamente degli stampi molto molto precisi. Funziona a rapporto 1 a 1, quindi pesate separatamente l'elemento A e l'elemento B, nel mio caso uno pesava 60 e l'altro 60, ottenuto una pallina di 120 grammi. Ho impastato molto bene con le mani perché dovete ottenere poi un colore uniforme, da giallo scuro diciamo diventa un giallo un pochino più chiaro. Quando ottenete questo colore l'impasto è pronto. Lo posizionate sopra il vostro soggetto, nel mio caso l'ho posizionato avvolgendo perfettamente il bocciolo della mia rosa che era in una resina già colorata di grigio e ho aspettato circa un quarto d'ora 20 minuti. In quel tempo si solidifica perfettamente, poi ho preparato una colata con della polvere ceramica e ho ottenuto in un secondo momento questa bellissima rosa che poi ho dipinto a mano con dei pigmenti. Quindi ecco a voi una nuova idea per una nuova creazione, iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuto il video mettete like e per contattarmi avete la mia mail nelle info. Un abbraccio, ciao!